Strasburgo ha dato l'ok alla legge anti-Burka approvata in Francia. Lei come commenta questa notizia? Ogni tanto anche dall'Europa dei vincoli e dei diktat arriva qualche notizia positiva, soprattutto di buonsenso. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo certifica un principio di assoluto buonsenso, ovvero il divieto di viaggiare in luoghi pubblici o aperti a pubblico travisati. Questo vale in modo particolare per chi si copre il capo con burka o indumenti simili. Quindi una notizia positiva che dà la conferma che la proposta fatta in Francia è assolutamente identica alla proposta di legge fatta dalla Lega ed è il motivo per cui la Lega, come già da tempo insiste e reclama, chiede alle forze politiche presenti in Parlamento di votare la nostra proposta di legge che ripeto è una proposta di legge di buonsenso e soprattutto finalizzata a garantire sicurezza e ordine pubblico ai nostri cittadini.